La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocele Inferiore, in collaborazione con i colleghi di Trieste, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti della provincia di Napoli, indagati per i reati di frode fiscale e riciclaggio. Il provvedimento scaturisce da un'indagine, delegata dalla Procura della Repubblica triestina e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, che ha consentito di scoprire un rilevante frode fiscale preparata dagli indagati attraverso società esistenti solo cartolarmente nel settore del mercato di prodotti energetici e quantificabili in circa 160 milioni di euro di imponibile sottratto a tassazione che ha determinato un'evasione dell'IVA pari a 35 milioni di euro. In particolare, l'episodio contestato commesso nel territorio salernitano riguarda l'impiego di parte dei proventi illeciti conseguiti attraverso la Commissione dei delitti di frode fiscale e l'acquisizione di uno dei principali depositi fiscali operanti nello stoccaggio di prodotti petroliferi sul territorio nazionale attraverso la sottoscrizione di un contratto di acquisto rogitato presso un notaio di Scafati.